E? Uccisi da una terza ruga? Ho detto da un turista! A chi stai dando del turista brutto stronzetto? Io vivo a qui da 273 anni, ho fatto anche saltare il culo al taro seduto! Oh, povero orsetto ingannato, tu vivi, mangi, dormi con un gruppo di ranger, eppure ancora non sai che sono stati i tuoi amati ranger ad assassinare i tuoi genitori! Cosa? Questo è impossibile, questo!